Benvenuti al meteo di Telenuova, queste le previsioni del tempo per domani lunedì 22 giugno. L'estate è iniziata come meglio non poteva investendo sul serio tutta la penisola con una pressione nettamente in aumento sulle regioni. Tempo soleggiato e più caldo ovunque da segnalare solo isolati rovesci pomeridiani sull'arco alpino. Temperature stazionarie con massime tra i 24 e i 31 gradi. In Campania il rinforzo dell'anticiclone garantirà condizioni di tempo stabile sulla regione. Il cielo sarà sereno salvo qualche locale addensamento. La temperatura in aumento sia nei valori minimi che massimi venti deboli, mare poco mosso.